Buongiorno e bentrovati dunque dalle 20 di ieri, liste completate e depositate ufficialmente, quindi la campagna elettorale parte a tutti gli effetti, tra conferme, bocciature sul campo, delusioni e promozioni. Per quanto riguarda il nostro territorio, in questa legge elettorale parecchio complicata, il partito che più penalizza il contatto col Varesotto indubbiamente è Forza Italia, perché nella scorsa tornata erano stati eletti qui a Varese i non Varesini, Galliani e Giussi Versace, e poi, come sapete, il commissario provinciale è stato il senatore Caliendo, è tutt'ora il senatore Caliendo. Ebbene, il senatore Caliendo non è stato ricandidato, Giussi Versace è passata alla concorrenza, è candidata infatti con il cosiddetto terzo polo, Adriano Galliani ha deciso di non ricandidarsi. Così Forza Italia non presenta alcun Varesino, peraltro presenta anche una bocciatura eccellente, Giulio Gallera, già assessore regionale Welfare, non è stato ricandidato, lo è stato invece l'assessore regionale Fabrizio Sala. Per quanto riguarda appunto il terzo polo, cioè Italia Viva e Azione, abbiamo già detto molto, il saronnese Angelo Leva, la capolista Maria Chiargada, poi Guido Bonoldi, insomma Sonia Serati, non mancano i volti Varesini, bisognerà vedere poi con quali chance. Gianluigi Paragone con Italexit è candidato alla Camera come capolista in proporzionale sia in Puglia sia a Milano e anche nella circoscrizione Lombardia 2. Fratelli d'Italia è quella che presenta più chance anche per il nostro territorio, le percentuali infatti promettono di portare a Roma parecchi parlamentari, nonostante il taglio da 6 a 400 rappresentanti. In lista troviamo Andrea Pellicini, in buona posizione anche Francesca Caruso, troviamo Manuela Scidurlo che è esponente politica di Somma Lombardo, troviamo anche Paola Farsinetti candidata a Monza, lei è milanese ma conosce molto da vicino il Varesotto. Siamo al Partito Democratico e qui troviamo un buon posizionamento di Alessandro Alfieri che è capolista al Senato, lo abbiamo intervistato, lui stesso nonostante imposto al sole riconosce tutti i limiti di questa legge elettorale denominata Rosatello. Ma ascoltiamo. Varesino, 50 anni, laurea in Bocconi, Alessandro Alfieri è senatore uscente del PD e ricandidato come capolista, ruolo di spicco e di peso che non impedisce all'esponente Dem di criticare duramente i vizi di questa legge elettorale. Il primo è quello che non puoi scegliere il tuo rappresentante, gli italiani andranno a votare e saranno già stampigliati sulla scheda i nomi, non è che uno può dire non mi piace questo e quindi posso votare un altro, come col voto delle preferenze, le regionali e le comunali noi votiamo così, questo è il principale errore. Il secondo è che con il taglio dei parlamentari riduce la rappresentanza di alcune forze politiche, soprattutto delle forze politiche minori e quella più grande è che costringe a fare coalizioni che mettono dentro tutto e il contrario di tutto per provare a vincere ma poi hai difficoltà a governare. Ecco, sul fronte dei contenuti voi in queste ore avete insistito molto sul tema del lavoro, del cuneo fiscale, è una risposta alla flat tax che è diventato un po' il tema dominante del centro-destra? La flat tax vuol dire abbassare le tasse, ma per fare quel tipo di manovra ci vogliono 60 miliardi, quindi è impossibile, ma al di là dei 60 miliardi, quindi diciamo fumo negli occhi degli italiani ed è sempre sbagliato, mettere un'aliquota uguale per tutti è discriminante perché chi ha di più deve poter dare di più, deve pagare più tasse, chi ha di meno deve pagare di meno, chi non ha proprio non deve pagare niente, è un principio cardine che è scolpito nella nostra Costituzione, le nostre regole che è quello della progressività ed è sbagliato. Noi invece, cosa diciamo? Abbassiamo il cuneo fiscale, cioè la differenza di quello che gli imprenditori e i datori di lavoro tirano fuori che poi viene invece percepito dal lavoratore. Va diminuito quel gap in modo tale da lasciare più soldi in busta paga e noi abbiamo fatto gli studi, abbiamo costruito le coperture che sono certamente molto minori rispetto alla proposta della flat tax per poter lasciare una mensilità in più nelle tasche degli italiani alla fine del mese, come chi ha la tredicesima possa avere la quattordicesima, chi ha già la quattordicesima possa avere la quindicesima. E se sul fronte degli alleati e dei possibili radicalismi di sinistra Alfieri rassicura, il baricentro della coalizione è e resta il PD, dice, col suo bagaglio europeista e moderato, su quello degli avversari il capolista Dem supera il mantra dell'antifascismo ma sentenzia il sovranismo è nemico della modernità. A me non preoccupa il fascismo in quanto tale, mi preoccupa l'incapacità della destra sovranista di guidarci in un mondo che è cambiato notevolmente. Portarci fuori dall'Europa, che è il rischio che io vedo dei sovranisti, vuol dire indebolirci perché oggi alcune grandi sfide, la lotta ai cambiamenti climatici, l'uscita dalla crisi economica, la pandemia ad esempio, ti vinci se hai alle spalle qualcosa di forte, di molto forte, l'Europa lo è perché ha messo in campo miliardi per acquistare i vaccini, ha messo in campo miliardi per fare l'alta velocità in Italia, ha messo miliardi per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, per fare industria 4.0, tutte misure che noi da soli non saremmo stati in grado di mettere in campo perché ci volevano davvero tanti soldi e tante risorse e in generale in un mondo che sta cambiando a una velocità impressionante, davvero noi pensiamo di poter tenere testa alla Cina, alla Russia da soli o stando insieme, stando in Europa con i nostri alleati e nell'alleanza atlantica con gli Stati Uniti? Per poi di politica avremo naturalmente occasione di occuparci giorno per giorno, da qui al 25 settembre ne parleremo sempre con i candidati più in vista, con gli esponenti locali, domani grande spazio al centro-destra, Talega e Fratelli d'Italia. Adesso invece qualche notizia di cronaca, cominciamo da Gerenzano, il video che state vedendo realizzato dai Vigili del Fuoco in via Inglesina dove ieri pomeriggio è andato a fuoco un box, sul posto sono intervenuti i pompieri di Saronno, le fiamme sono state rapidamente domate. Poi invece un odioso caso di truffa ai danni degli automobilisti diversi che sono stati bloccati a busto assizio nel corso di normali controlli della polizia locale e pesantemente sanzionati perché risultavano privi di qualunque copertura assicurativa. Quindi 866 euro di multa e sequestro del veicolo. Peccato che gli automobilisti fossero convinti di essere coperti da polizza perché pensavano di averne sottoscritta e soprattutto pagata una, seppur a tariffe competitive. Si trattava invece di una truffa smantellata grazie all'indagine innescata proprio dalla polizia locale. Nei guai sono finiti 5 soggetti della campagna, tra i quali 3 donne e 5 stranieri, tutti denunciati per truffa. Sul nostro sito di Rete55 trovate anche un decalogo, insomma una serie di consigli utili a evitare raggiri di questo tipo. Le low cost già funzionano male quando si tratta di aerei, figuriamoci quando si tratta di assicurazioni. Adesso invece voltiamo ancora pagina, andiamo a parlare di tariffe per i trasporti ma pubblici perché sono disponibili già da ieri sul sito di Autolinea e Varesini i nuovi abbonamenti. Naturalmente per gli orari e tutti i dettagli relativi ai servizi scolastici sarà necessario aspettare settembre, però già adesso potete caricare sulla tesserina Muoversi a Varese abbonamenti, singoli biglietti, carnet sul sito del consorzio trasporto dell'Insubra, trovate anche tutte le tariffe e tutte le condizioni del caso. Voltando ancora pagina, ieri ricorderete la battaglia innescata ancora una volta dall'ex vice sindaco, leader del Varese 2.0 Daniele Zanzi, lo abbiamo intervistato all'ombra del grande cedro dell'Himalaya che domina Viale Arguggiari vicino alla chiesa Colbe e che è in fase di abbattimento. Lui si oppone contro questo abbattimento, ieri ci ha spiegato perché. Oggi però abbiamo ascoltato il parere dell'assessore Nicoletta Sanmartino che è l'assessore alla tutela ambientale del Comune di Varese, la quale spiega abbiamo fatto di tutto per salvarlo ma secondo i nostri esperti quell'albero è pericolante e quindi pericoloso per le persone, per i passanti e dunque è necessario abbatterlo e la storia finisce qui. Adesso invece andiamo a parlare di sport, eccolo qui il triplete, diciamo così, la triade d'attacco della Pallacanestro Varese, ieri la presentazione ufficiale di Mark Brase e di Paolo Galbiati che è il suo assistant coach, tutto capitanato dal GM della società Biancorossa, Michael Arceri, che si definisce molto fortunato. Ecco un primo servizio. Nel giorno della sua ufficiale ripartenza Pallacanestro Varese si risveglia internazionale almeno quanto determinata. Dal GM Arceri le parole di benvenuto a Coach Brase e all'assistente Galbiati che si fondono con una certezza. Siamo stati fortunati. Siamo stati veramente fortunati a trovare Matt e Paolo, persone che hanno vissuto il processo di lavoro, di miglioramento, pazienza con giocatori per guardare e prendere successo ogni giorno. Dal canto suo il coach ringrazia chi ha deciso di dargli fiducia e a chi gli chiede quanto Mike D'Antoni ci sarà nella ricetta Brase. Risponde secco, porterò l'esperienza maturata al fianco di un vero e proprio genio del basket, ma nulla di più. La Pallacanestro italiana vive dinamiche, caratteristiche ed esigenze ben diverse da quelle americane. Sono davvero grato al club, a Luis, Michael, Mario, Paolo, a tutti coloro che sono al mio fianco in una società storica che ha al suo attivo grandi risultati. Siamo impegnati su diversi fronti, dal settore giovanile fino alla prima squadra e faremo leva su tecniche di valutazione e di statistiche innovative al fine di potenziare al massimo il nostro lavoro di squadra, da portare avanti con lo spirito di una famiglia, la volontà di valorizzare il talento di ciascuno e le peculiarità di ogni giocatore. È un momento davvero entusiasmante. Da Paolo Galbiati, che conosceremo meglio in un servizio ad hoc, parole cariche di passione, di determinazione. Classe 1984, lunga esperienza da play, l'assistente di Brasi punta sulla lucidità mentale e la solidità dell'intera compagine. Qui a Varese, sentenzia, si vive e si lavora davvero bene. Saremo all'altezza dell'ambiente, anche sul parquet. E infine, a proposito di basket, un grande nome nella storia della pallacanestro internazionale legato a doppio filo al basket italiano, in particolare a quello milanese. Dan Peterson approda a Varese con il suo libro, un libro che naturalmente parla della sua straordinaria carriera e non solo, lo fa nell'ambito del Festival dei Libri Sportivi che prende via in questi giorni, e che l'8 settembre attende Dan Peterson in serata in Piazza Carducci, nel centro di Varese. Avremo modo poi, non solo di ascoltarlo, ma anche di fornirvi ulteriori dettagli su questo appuntamento, da non perdere per tutti gli appassionati del grande basket. È tutto, anche per lo sport. Grazie, il TG torna alla prossima edizione. Arrivederci a tutti. A tutti una buona serata. Alta pressione dal Mediterraneo alle Alpi, prosegue quindi questa lunga estate con temperature ancora al di sopra delle medie stagionali. Per domani tempo soleggiato, sempre caldo estivo, le temperature massime tra 30 e 33 gradi. A tutti rinnova l'augurio di una buona serata.